È una sfida importante in ottica classifica per entrambe le squadre, sia per voi o per loro? Beh, insomma, in questo momento qui siamo vicini alla fine del giro di andata con degli impegni per noi molto importanti. È una settimana la più difficile come appuntamenti, visto che abbiamo Bari, Coppa Italia e poi abbiamo la regina in casa. Quindi è sicuramente una settimana molto complicata, visto anche la doppia trasferta tra Bari e Siena. Quindi dobbiamo prepararsi bene a fare delle partite molto importanti. Prendiamo una alla volta, Bari, che è risaputo che è una squadra sicuramente importante, con giocatori forti, con una società, una proprietà e un allenatore molto bravi. Sono molto bravi, quindi per noi è un motivo intanto di orgoglio, di soddisfazione andare a misurarsi con queste squadre qui. Poi, ripeto, le partite chiaramente sono tutte difficili in questo girone, ma giocare chiaramente a Bari in questo momento, che vengono anche da un filotto veramente molto importante, è un qualcosa in più che dovremmo fare per fare una partita tosta. Chi ha più da perdere e chi ha più da guadagnare in questa partita? Io credo che tutti quanti hanno da perdere e tutti quanti hanno da guadagnare. Non c'è un chi di più, chi di meno. Io credo che noi abbiamo il nostro percorso. Noi sappiamo benissimo qual è il percorso che dobbiamo fare, che dovremmo fare. Lo sappiamo, siamo molto concentrati su queste cose. Vorremmo sempre crescere, diciamo, in maniera continua. Sappiamo che è difficile, però vorremmo farlo. Quindi, secondo il mio punto di vista, io sono sempre stato molto pratico e leale nel giudicare le prestazioni. A seconda che non abbiamo vinto o perso, e dovremmo fare ancora così. Perché il processo di questa squadra qua non è altro che di continuità. Andiamo alla ricerca della continuità, che non è solo quella di risultati, ma anche quella di prestazioni. Cosa chiede la sua squadra dal punto di vista tattico? Beh, loro lo sanno. Se io adesso lo dico, metto anche già. Sono un po' in vantaggio. L'allenatore del Bari è contento, quindi diciamo come facciamo. Quindi non posso che dire delle cose generiche. È normale che nelle due fasi dobbiamo essere pressoché perfetti. Perché il Bari, insomma, in questo momento, basta vedere i risultati, le prestazioni, non schiacciassassi in questo momento. È normale. Quindi dobbiamo stare molto attenti e cercare, nelle attenzioni, di fare la nostra partita. Quanto pensi che possa somigliare la partita di domenica a quella di domenica scorsa? Beh, sono molto simili, con squadre costruite certamente per primeggiare. A me non piace andare in casa del Bari e dire sono costruiti per vincere mentre noi siamo poveretti, umili e basta. No, cioè, la trovo una scorrettezza unica. Qualcuno l'ha fatto con noi, mi ha fatto incazzare pesantemente. Io non credo che sia il giusto metro per andare a preparare una partita. È una partita dove il Bari ha una squadra forte e il Termode andrà lì per fare una partita forte. Vedremo che limiti avranno le due squadre, ammesso e concesso che una delle due li abbia. Quindi noi con la Ternal abbiamo fatto, secondo me, una buona partita. Mi penserebbe vedere una partita con coraggio, fatta dalla squadra, andando a giocare in un campo difficile, ma cercando di giocare un certo tipo di calcio sempre. Vediamo se ci riusciamo e, però è anche vero, vedremo se ci lasceranno anche giocare, perché anche questo, insomma, è un avversario sicuramente importante. Paralossalmente giochi con una squadra che giocherà tanto quanto noi, forse anche più, non lo so. Questo è un vantaggio per il Teramo di Tedino? Non lo so. Io nella mia vita ho sempre più paura, paura, tra virgolette, tecniche, dei giocatori forti. Cioè, quando tu davanti trovi Antenucci, piuttosto che Terrani, piuttosto che Ferrari, piuttosto che incutono sicuramente timore e hanno delle qualità veramente molto importanti. Quindi io ho sempre, diciamo, da avversario, mi incute più timore, un avversario forte tecnicamente, piuttosto, e che giochi, piuttosto che una squadra magari remissiva. Questo è sicuro. Però si fa che la storia ha detto che con le squadre remissive non è che sia andata granché bene. Ma non è vero, non è vero. Abbiamo perso qualche partita fuori casa, ne abbiamo vinte a molti in casa, quindi non è... Parlo fuori casa io. Abbiamo perso Catanzaro, che è una squadra che gioca molto bene a calcio, come abbiamo perso, per dire, a, che ne so, abbiamo perso dei punti importanti ad Avellino, piuttosto che a Picerno, cioè contro il Picerno. Le squadre che non giocavano per vincere, giocavano di remessa, tranne Catanzaro. Ci sono delle... io ripeto quello che ho detto prima, io ho sempre più timore tecnico delle squadre che giocano bene a calcio. Quindi io mi ero convinto del fatto che noi, con una squadra che ci gioca di fronte, possiamo andare molto meglio in trasferta, non so, sbagliare. No, ripeto, non lo so se ti sei sbagliato, però secondo il mio punto di vista io avrei... ho più paura tecnica, parlare di tecnica, dei giocatori forti e che giocano a calcio, piuttosto che dei giocatori remissivi che magari stanno in tana. Io questa... la sensazione che ho io quando hanno la palla determinati tipi di giocatori di grande tecnica, incutono più timore rispetto a dei giocatori che ne hanno un pochino di meno e che magari fanno un calcio più conservativo. Ecco, questo è un po' il concetto mio. A proposito di giocatori, l'attacco del Bari contro la difesa del Teramo, è questo l'aspetto che ti toglie il sonno in queste notti o c'è anche altro? No, 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 è molto riduttivo. Ormai il calcio è diventato veramente a 360 gradi, quindi sia i reparti difensivi che quelli dei centrocampisti e degli attaccanti dobbiamo fare un lavoro in tutte e due le fasi, quindi ripeto, io non ho paura, però è chiaro che c'è una squadra contro che ha un equilibrio di un certo rilievo e un modo di giocare di un certo rilievo che chiaramente, tecnicamente, ti danno da pensare. Quindi per noi sarà molto difficile e sarà importante il nostro approccio e la nostra attenzione nei particolari. E Pivarini l'hai già incontrato? Con l'Empoli a Palermo. Com'è finita? 3-3. Mister, però il San Nicola ti rievoca, non ci ricordi mi sembra, cioè due anni fa mi pare che... È stata una delle soddisfazioni tecniche più importanti della mia carriera, ma non tanto perché abbiamo vinto, tanto perché abbiamo fatto un'ottima partita ed era un periodo magico per noi perché venivamo da un grande filotto e ci ha permesso di consolidare anche il primo posto in classifica che in quel momento lì ci permetteva di guardare tutti dall'alto. Quindi è stato un insieme di ingredienti che ha dato veramente un ottimo prodotto. Il tuo collega che inizio hai? Per chiudere la domanda precedente. Con lui ci ha contraddistinto anche una chiacchierata forte fuori dalla stazione di Firenze nel momento in cui lui è stato esonerato dall'Empoli. Mi ha parlato per un'ora, mi ha fatto un'impressione ottima sotto tutti i punti di vista, quindi molto preparato, una persona che vede il calcio in una certa maniera, che ha una prospettiva anche lavorativa in un certo rilievo, un ottimo lavoratore e una persona sicuramente all'avanguardia dal punto di vista generale. E che aspetta a 4 o a 3? Non lo so, sinceramente non so cosa dire perché guardare in casa degli altri non mi piace. Loro faranno il loro percorso e noi speriamo di fare il nostro. Mungo in l'antica, dal primo minuto? Non mi risulta però ci penserò. Il terreno non ha mai giocato a Bari, tantomeno quindi mai vinto. Un allenatore quando pensa a una statistica del genere prepara la settimana in maniera differente il fatto di avere un'occasione del genere a portata di mano? No, 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 è una partita che ha a che fare magari con la storia in termini statistici, nel senso che non ci è mai giocato, però credo che non... No, perché dobbiamo prepararla diversamente? Credo che sia importante... E personalmente se lo avrebbe a Bari? Cioè il fatto che incrociando le dita il terreno non dovesse vincere a Bari ci sarà? Statisticamente Tedino è stato il primo allenatore che quel terreno ha vinto a Bari. Vabbè, ma no, sinceramente non ce l'ho neanche pensato, devo essere sincero. Mi interessa molto invece aver lavorato in funzione di una partita molto difficile per continuare a regalare delle soddisfazioni tecniche anche a delle persone, ripeto, che stanno lavorando con noi in maniera pesante. Ti chiedo di Soprano, ti chiedo di Costa Ferreira e ti chiedo di Numelli. Sì, ma la domanda qual è? A che punto stanno riporti? 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 Soprano, a che punto stanno riporti? No, Pedro? Sì, Pedro sta bene. È già da mercoledì che si allena regolarmente, quindi non c'è nessun tipo di problema. Soprano e Minelli sono convocati, però devono mordere il freno per superare qualcun altro adesso nelle gerarchie perché sono, indubbiamente, rispetto agli altri un pochino indietro, però sono convocabili, Pedro sta bene, abbiamo preso molta paura dopo l'infortunio, molta paura perché è caduto veramente come un sacco vuoto. Per fortuna, questa è la cosa più importante, ha ripreso già mercoledì a lavorare con l'ingruppo e quindi non c'è nessun tipo di problema. Non ha i grossi limiti? Io, è ovvio. No, non ha i grossi limiti né le sciacche, voglio dire che puoi sbagliarlo. No, come diceva prima nella domanda di Mungo e Lasi, che sono due giocatori che stanno facendo indubbiamente bene, mi è piaciuto moltissimo, lo sottolineo, come è entrato Mimmo nell'ultima partita perché ci ha dato un grandissimo spunto. Mimmo è un giocatore, lo ripeto, per me fuori concorso quando lui ha l'intelligenza e anche la continuità nel suo modo di giocare, nel suo modo di allenarsi, è un giocatore irrinunciabile, però ci sono anche altri giocatori perché nel momento in cui gioca Mungo deve stare fuori qualcun altro, nel momento in cui gioca Lasi che deve stare fuori qualcun altro e quindi è normale che le scelte sono… in questo momento c'è una piccolissima gerarchia data da qualche risultato e da qualche buona prestazione. Chi in questo momento sta giocando leggermente di meno deve mordere il freno per cercare di superarli e io sono molto attento. La valutazione ex lecce di scena a Bari che vale per Costa Ferreira? Io penso che anche loro non ci hanno mai neanche pensato sinceramente. Tu dici? No. Io credo che per loro sarà importante fare una grande partita. Hai un dubbio per reparto o più di lui? No, per reparto no, però un paio di situazioni dove starò attento sì. Quindi Lasi che dal punto di vista fisico e mentale lo ritiene pronto? Richard in questo momento qui ha fatto una trasformazione dal punto di vista anche tattico. Allora, vi faccio perdere un minuto così spiego meglio. Richard è un giocatore che sa giocare, che ha mentalità, un grosso lavoratore, un bravo punto di vista fisico, ha dovuto lavorare sodo, ha avuto qualche piccola stupidaggine che gli ha permesso di essere continuo nel lavoro. Detto questo, quando abbiamo giocato recentemente a Viterbo in Coppa Italia, a me è sorta l'idea, visto che magari in questo momento non ha una sorta di 100% dal punto di vista atletico-fisico per fare la mezzala, mi è venuto in mente di provarlo a fare il vertice basso. Ci troviamo adesso con Arrigoni, Viero e Lasi che sono tre giocatori forti che amano questo tipo di ruolo. O comunque, Viero in costruzione, Lasi che è stato provato con esiti eccellenti e Arrigoni che secondo me sta facendo molto bene, per quello che vedo io, come vedo io il calcio. E quindi anche lì, chiaramente avendo un esubero, in questo momento qualcuno magari si potrà adattare a fare qualche ruolo diverso, l'ASIC o stesso Viero. Quindi, ripeto, è un vantaggio per me perché ho più soluzioni avendo dei giocatori che in questo momento sono pronti, ecco questo sì. Piccolissima annotazione sul fatto che hai detto che ci sono delle leggerissime gerarchie. In settimana ha parlato, giustamente, ed è normale che sia così. In settimana ha parlato Martignago, a cui mi hai dato una possibilità con la Ternana. pensi che la possibilità che gli hai dato lo abbia riportato nei 49%, nella zona 49%? No, io penso che sia invece al 50%. Uno dei poveri, sicuramente. Comunque sta andando in un periodo. Sì, grazie. No, penso che Riccardo, devo dire come sempre la verità, ha fatto un periodo piuttosto griso dovuto a tante situazioni, anche alla sua stessa credibilità. È un ragazzo meraviglioso, è un ragazzo intelligente che sa benissimo quando può far meglio. Sono dieci giorni, dodici giorni, quindi la seconda settimana diciamo che sta facendo veramente molto bene. In settimana sta facendo meglio, è più libero, più sciolto. Sa che, sa perfettamente che noi in lui abbiamo riposto veramente grandissime attenzioni e soprattutto il sottoscritto sa quanto forte potrà diventare essere per il terreno calcio. E questo è un dubbio che io avrò fino alla fine. Però è un dubbio che è legato non al fatto che se gioca di qua giocherà di là. È una partita alla volta. Quindi rispetto all'avversario, è un dubbio? Non guardiamo tre partite, noi guardiamo una alla volta. Quindi legata a Bari. Sì, pensare poi a Siena? Quando finirà a Bari avremo il tempo poco per pensare anche a Coppa Italia. E poi dopo la Coppa Italia avremo poco, pochissimo, ancora di più, per pensare alla Reggina. È una bella settimana. Speriamo sia migliore. Grazie. Grazie.